Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti su Gnam. Gnam, dove la G non vuol dire nulla, e il resto vuol dire ben poco, e cioè narrazione agglutinata, multimediale. Agglutinare, saldare insieme due o più elementi con il glutine della narrazione, in modo da fondere in un'unica trama narrativa la molteplicità di elementi che costituisce il caos della percezione del mondo e della nostra esistenza. Bene, in questo Gnam giallo, 5 perle è sulla narrazione da non dare ai porci, un video tratto da Zanichelli, le fasi della narrazione. Si tratta di un breve video, dura soltanto 3 minuti e 16, in cui viene illustrato quella che è la struttura minimale della narrazione a partire da quella che viene chiamata esposizione, attraverso degli esempi, anzi attraverso un esempio, viene mostrato quello che è lo svilupparsi della dinamica narrativa in quella che è una struttura narrativa, appunto, minimale. Un'applicazione, Storybird, una delle applicazioni più belle per creare storie e, in generale, testi di tipo narrativo, ma anche poesie. Storybird mette insieme il potere dell'immagine, ma le immagini sono immagini, set di immagini, collezioni raccolte, predispotte e disegnate da dei professionisti, dicevo, il potere dell'immagine con il potere della parola, lasciandoci liberi di creare, utilizzando questi due potenti ingredienti. Possiamo leggere alcune di queste storie, read, clicchiamo per esempio qui, vediamo come si presenta a Storybird, ingrandiamo, vedete, c'è una copertina, e poi ci sono il testo e l'immagine, e si può andare avanti e così via. Per mostrare la semplicità del funzionamento, che lo rende adatto a studenti di ogni età, basta cliccare su Create, e vediamo che ci vengono proposti dei set di immagini, già predisposti, questa non è un'immagine, ma una collezione di immagini ispirate a questa grafica. Per esempio, se clicchiamo qui, ci si aprirà una serie di immagini, noi dovremmo accettare di usare questa grafica, per creare, per esempio, un libro di una certa lunghezza, e vedete che, questa è la copertina, e vedete che abbiamo a disposizione tutte queste immagini, che possiamo tranquillamente trascinare, per disporle nella nostra area di lavoro, in quello che sarà poi la futura copertina del libro, e poi aggiungere gradualmente delle pagine. viene mostrato in questo video tutorial di Elisabetta Buono, sono 7 minuti e 50, e viene spiegato proprio nei dettagli come usare questo programma, che è estremamente semplice. Qui avete il link al video tutorial di Elisabetta Buono, e poi darò il link di questa breve presentazione, realizzata in grafica diversamente bella, nel box descrittivo, nel box informativo sotto il video. Abbiamo poi la bacheca Pinterest, una raccolta che contiene 80-85 pin, e quindi 80-85 link, che ho realizzato nel corso del tempo, in cui ho raccolto varie risorse sulla narrazione, guide e regole per creare storie, strutture di plot, storytelling ed emozione, applicazioni per realizzare storie, e così via, visual storytelling, e poi altri pin che non ho ancora ordinato in sottosezioni. Quindi per il momento ci sono cinque sottosezioni, anzi cinque sezioni, più un'altra serie di pin, che rimandano a infografiche, guide, video, applicazioni, articoli sulla narrazione, e sull'utilizzo della narrazione in ambito didattico. Tutti coloro che si occupano di narrazione conoscono Palo Aghemo, in particolare coloro che si occupano di podcast. Cliccando qui si viene ricondotti a Scribd, e qui su Scribd abbiamo un vero e proprio saggio sullo storytelling, e il digital storytelling realizzato da Palo Aghemo, che ha studiato tra l'altro anche con Alberto Pian, e quindi vedete un indice piuttosto interessante, si va dal digital storytelling nella didattica, un breve scursus, una sinossi, cosa raccontare, come progettare il digital storytelling, e così via. Quindi un saggio di una cinquantina di pagine, che può essere usato come testo da consultare, ma ci sono delle parti che sono proprio interessanti da leggere per esteso. Infine è molto bella questa presentazione, realizzata da Mondadori Education, che troviamo su Slide Player, che tratta del tema del testo narrativo, di quelle che sono le caratteristiche, la struttura del testo narrativo, diciamo che è molto efficace, perché è molto sintetica, ma presenta tutti gli elementi base della narratologia, a partire da che cos'è un testo narrativo, fino alle sequenze, micro-macro-sequenze, l'intreccio, la fabula, e così via. Dicevo, sia pure in termini molto sintetici, sono presenti tutti quelli che sono gli elementi di base, che è necessario conoscere, per affrontare con un minimo di cognizioni, conoscenze scientifiche, l'argomento della narrazione. E questo è tutto per questo numero giallo di Gnam, vi lascio con questa frase di Agatha Christie, la vita ha spesso una trama pessima, preferisco di gran lunga i miei romanzi. Ci sono tanti romanzi, che sono migliori di tante vite. Cosa questo voglia dire, non ne ho idea, ma vi saluto, e alla prossima.